Sono diretti dal maestro Mario Paduano. Ecco, vuoi continuare tu? Sì. Io dico che sono bravissimi. Sì, appena c'è un po' di tempo dico qualcosa per lì, posso? Un applauso! C'è un po' di tempo. Sì, appena c'è un po' di tempo. 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 No, vengono da Ercolano, Napoli, San Giorgio, tutti i paesi vesuviani comunque. Noi per la Santa Pasqua facciamo gli auguri a tutti quanti voi e a lei. Abbiamo un po' di tempo. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo. No, vengono. No, vengono. C'è un po' di tempo.